Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata della Computer Museo, puntata che sarà sul plugin Music di LiveView. Infatti plugin è molto semplice all'utilizzo, basterà andare nella sezione plugin e avviare music. L'orologio si trasformerà in una roba del genere. Allora vi spiego velocemente le impostazioni. Per far partire la musica premiamo il tasto DX. Come vedete il programma parte in automatico e come vedete è partito l'audio sul telefono. La cosa è molto semplice e molto veloce. Per scegliere poi le tracce basterà spostarsi con... Ok scusate non prendeva... Come vedete è molto semplice la funzione per alzare il volume. Esempio basterà premere il tasto in alto e quello in basso per abbassare oppure per alzare il volume. Questa era l'applicazione Music. Spero che vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima puntata della Computer Museo. Grazie a tutti.